Musica Bella tutti compagnia qui il vostro kids che vi parla Bentornati con un nuovo video, finalmente con un nuovo video Perché praticamente sono una settimana e mezzo che non registro io video Ma voi comunque di video ne avete visti più o meno, almeno tre settimane Vi chiedo enormemente scusa per questa mia assenza, mancanza, non lo so cosa... Sbaglio era uno infatti Parca puttana ma hai quasi shottato Vi chiedo enormemente scusa ma sono stato male La mia solita malattia di merda si deve far sentire, almeno una volta al mese si deve far sentire la mia malattia Che penso è una delle malattie più handicappate del mondo Tia, ve lo ho già fatto nel primo Q&A spiegandovi appunto perché molte volte io manco per giorni sia a giocare Che... ma... ma volete smettere di fottermele però? E vabbè io non riesco... In sta partita qua non farò una kill Come ho non detto l'ho appena fatta Comunque sto usando l'N94 Dopo la patch appunto quella nuova dove hanno introdotto le nuove armi E mi piaciucchia, il mirino mi fa un po' cagare perché tipo c'è un quadrato, è un quadro Oddio santo, ti copro a metà schermo E vi chiedo anche enormemente scusa di tutti i ritardi che stanno avendo tutte le serie, tutti i speciali Perché ormai siamo già a 2600 iscritti e non è uscito neanche uno dei tre speciali dei 2500 E di questo è colpa solamente mia Lo rianimo io? Lo rianimo te? Bravo bambino Scusa, ti devo rianimare col 20 perché non so chi c'è qua intorno Dicevo appunto il contest di 2500 iscritti e il primo Q&A che come ho detto alcuni di voi su Whatsapp Perché non so se lo sapete, non so se ve l'ho detto Ho aperto un gruppo di Whatsapp per gli iscritti in modo tale da poter parlare appunto con voi Anche che so, per trovarci, dirvi Oh raga guarda che sto per entrare online su Battlefield 3, chi vuole venire? Oh raga oggi ho voglia di fare una cosa, facciamo insieme Cioè se volete dopo magari mi dovete scrivere in privato su Facebook o su Youtube Magari il vostro numero vi aggiungo al gruppo se volete essere aggiunti Comunque ho creato questo gruppo appunto per gli iscritti Come ho detto appunto sul gruppo di Whatsapp Volevo fare lo speciale 2500 iscritti Q&A Per appunto spiegare, innanzitutto rispondere alle domande Ma poi spiegare anche alcune cose, aneddoti che magari tanti di voi non conoscono E potrebbero finalmente capire perché non so parlare Due, sembro un coglione quando parlo E tre, molte volte, cioè vedete tantissimi tagli I tagli non è perché sono un emo Ma è perché molte volte sono balbuziente Cioè io sono balbuziente quando registro Cioè nel senso quando io mi sento in ansia Minchia mi ha fatto cagare addosso Quando io sono in ansia divento balbuziente Non è una cosa, cioè non ci posso fare proprio cazzo Da sempre Penso Vi chiedo scusa se mi sentite un po' mogio mogio Ma non sto ancora Bene, 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 bene Scambio bare A breve inizierò anche una nuova serie Per iniziare anche a editare io stesso i Montage Dove prenderò delle partite buone Praticamente le editerò in stile Montage Aspetta che ti rianimo Intanto la partita è finita Siccome che non ho ancora finito di dirvi le cose Io direi di farci non un'altra Ma almeno altri cinque minuti della prossima Giusto per finirvi di dire quello che devo dirvi Un attimo e finiamo qua Ok abbiamo vinto, abbiamo vinto GGVP Dopo quasi due settimane che non tocco la Playstation 7-1 non è mica male però Ok, rieccoci Oh, finalmente ho sbloccato il mirino Come vi stavi dicendo prima appunto Ho intenzione di iniziare una nuova serie Che ancora non so nemmeno il nome Magari suggeritemelo voi Nei commenti Praticamente dove Prendo delle partite decenti che ho fatto Magari tipo un 21-0 Un 20-0 Un 21-1 Cosa così Perché le ho Nel senso Ve le sto elencando quelle che ho Tipo Un 20-0 Cosa così di Only Sniper Dove appunto faccio degli ottimi risultati E Li edito in stile Montage Come se fossero dei mini Montage Però di Proprio una partita Non c'è la clip Attack tiranimo Ok Non c'è solamente Una clip C'è un'intera partita Editata con le Momenti salienti Chiamiamole così Momenti salienti di quella partita Li edito in stile Montage È un'idea che Mi è venuta per Più che altro imparare A editare meglio Infatti inizierei con Solamente editing In stile Sony Vegas Poi Ovvio Imparo a utilizzare anche After Effects Ci ficco dentro un po' di After Effects Un'altra cosa Che appunto volevo iniziare Ma che non ho ancora iniziato Innanzitutto è Parlarvi del nuovo Let's Play Che ho intenzione di fare Poi stanno ritardando Un macello di video E di questo Anche lì Me ne devo scusare Veramente tantissimo Perché Italian Trolling Ve l'ho promesso Almeno entro metà giugno Ma non ce la farò mai Portarlo entro metà giugno Cioè ve l'ho portato a maggio Ma non ce l'ho fatta Adesso se riesco Lo porto a metà giugno Ma non so Anche lì se non ce la faccio Dunque Non so quando arriverà Non saprei ancora dirvelo Esattamente Perciò Mi scuso veramente tanto Una cosa che mi sta dispiacendo È che Ho promesso di iniziare a fare Appunto le guide Tipo come sbloccare quest'arma Come Easter Egg Tutte queste cose qua Stanno ritardando È una cosa che Mi spiace Ma Con tutte le cose Che mi stanno succedendo In questi tempi qua Non riesco a mantenere Adesso ovvio Io ci proverò A tornare attivo In tutti i sensi Proprio anche Tipo nei raduni Perché non stiamo facendo Più da tanto Però lei ne sto notando Che fa proprio cagare Ok Un'altra cosa Che sto ritardando A iniziare Ma che vi avevo promesso Che iniziavo Ma veramente È qua Ce l'ho proprio Sulla punta della lingua Oh non muore E non L'ho ucciso nemmeno io No dai Vabbè raga Ma cos'è che la gente Non mi muore Oh proviamo il Groza Minchia Il 94 Non shotta mai Dicevo appunto La serie che Mi manca Da iniziare Finalmente sul canale È anche Quella famosa Nel senso Quella serie che Avevo detto Parlato Insieme anche a voi Su Whatsapp Eccetera eccetera Mamma mia il Groza Quanto fa cagare Dalla distanza Era appunto Quella famosa serie Dove praticamente Voi mi dicevate Una sfida da fare Ad esempio Giocare con Mira invertita Giocare con Sensibilità Centro Giocare con Sensibilità Uno No Ste cose qua E io Le avrei giocate O con magari Una penitenza O con magari Non so Niente Cioè O avrei solamente Fatto così O magari con una penitenza Non esagerata Tipo Che so Magari Mangiare un limone Attaccarmi una molletta A ogni morte Cose così Stupide no Anche se Questa cosa qua Non volevo farla Più che altro Perché Anche se Questa cosa qua Non volevo farla Più di tanto Perché L'hanno già fatta in tanti Tipo Dread Queste persone qua L'hanno già fatta Serie dove Tipo se perdono Paghi la penitenza No Perciò Non volevo Dai ma Non puoi andare in giro Col Dao Comunque Niente Ditemi voi nei commenti Come la vorreste Perché io Senzalmente Volevo solamente Farla magari Con penitenze Porca Eva Quanti stavate Camperando qua dentro In quanti stavate Camperando lì dietro Cioè Io non ci voglio credere Mi pare logico Su dominio Una delle modalità Più frenetiche Di Battlefield 4 Ci sono più camper Che in modalità corsa Cioè ma Mi rende Io dico Livello 140 Guardate come sta camperando Guardateli Che schifo E poi magari Sto qua è uno che si vanta Guardate io c'ho un rato di tre Minchia Mai più dominio Vi giuro Non lo farò mai più Dominio Trovi più camper Qua che su conquista Rendiamocene conto Dove su conquista Bisogna Questo che mi è passato davanti Senza che l'ho visto C'è un altro Comunque stavo dicendo Scusate un po' la sclerata Ma vi ho detto Sono un po' Con le palle girate Anche perché Sto ancora male Comunque In poche parole Arriveranno anche i video Dove vi spiego Cosa hanno fatto In queste nuove patch E soprattutto Vi recensirò Le nuove armi Come l'N94 Il Groza 4 Il Groza 1 E l'M86A2 E il Marsleg Che sinceramente Li ho già provati tutti Anche dal CTE Il Marsleg Fa proprio schifo Nel senso È proprio una cosa orribile Il Marsleg Ecco Granate in faccia Mi prendo giustamente Io Cosa? No Ragazzi What the fuck Il fuoco era fuori Non è dentro Guardate il fuoco è fuori Come Scusa Se mi metto qua Vedi Non mi colpisce il fuoco qua Come ho fatto a morire prima Comunque ragazzi Come ho detto Appunto Ritorneranno tutte le serie Adesso ItalianTrolli Rototrolli Eccetera eccetera Scusate ancora il ritardo Ma sono stato appunto male Arriveranno anche Le recensioni Delle armi Le recensioni Della patch Arriveranno Guide Easter Egg Tutto quanto Ritornerà adesso Piano piano Tempo che mi riprendo Giustamente Finisce la partita Quando mi stavo per fare una doppia Io comunque ci tengo a dire una cosa Battlefield Sta sempre di più peggiorando Ma non Il gioco in sé Ma le persone Perché come avete visto anche voi In questo cazzo di video In una modalità frenetica Che cazzo di gusto c'è Camperarim Veramente me lo domando Comunque ragazzi Il video finisce qua Vi chiedo ancora Scusa per la mia mancanza Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace E un commento Iscrivetevi al canale Se non siete ancora E passate dalla pagina facebook O tornate sotto in descrizione Noi ci vediamo con un prossimo video Sempre by Bad Company Italy Scusa per la mia mancanza Scusa per la mia mancanza Scusa per la mia mancanza Scusa per la mia mancanza